Dopo l'esame dei Dieci Comandamenti, il Signore mi mostrò il libro della vita. Mi piacerebbe poter avere le parole per descriverlo. Che meraviglia! Vediamo tutta la nostra vita, le nostre azioni e le loro conseguenze, buone o cattive che siano, su noi e sugli altri. I nostri sentimenti e pensieri e quelli degli altri. Tutto, come in un film. Comincia dal momento della fecondazione. Vediamo la nostra vita a partire da questo momento e da qui veniamo presi per mano da Dio che ci mostra tutta la nostra esistenza. Nell'istante stesso della nostra fecondazione c'è come una scintilla di luce divina un'esplosione bellissima e si forma un'anima bianca. Ma non come il bianco che conosciamo. Dico questo colore perché è il più simile. Ma è così stupendo che è impossibile descriverne a parole la bellezza, lo splendore. L'anima è talmente bella, piena di luce, incantevole, raggiante e piena d'amore di Dio. Un amore di Dio impressionante. Non so se avete mai notato come i neonati spesso ridono da soli ed emettono quei suoni e balbettì, sapete? Stanno parlando con Dio. Sì, perché sono immersi nello Spirito Santo. Anche noi vi siamo immersi, ma la differenza è che essi, nella loro innocenza, sanno approfittare di Dio e della sua presenza. Voi non potete immaginare che cosa meravigliosa fu vedere il momento in cui Dio mi creò nel grembo di mia madre. La mia anima portata nella mano di Dio Padre. Scoprì un Dio Padre così bello, meraviglioso, tenero, premoroso e affettuoso, che ebbe cura di me ventiquattro ore al giorno, che mi amò, mi protesse e sempre venne a cercarmi quando mi allontanavo, con infinita pazienza. Io vedevo solo castigo, mentre lui non era che amore, solo amore. Perché egli guarda non la carne, ma l'anima, e vedeva come io mi andavo allontanando dalla salvezza. Sapete, mia madre, dopo le prime quattro gravidanze, per sette anni non ebbe figli. In quegli anni era molto turbata a causa della vita di infedeltà di mio padre. Lei già percorreva la via di Dio, ma come tutte le persone anche lei passò per un processo di spogliazione e santificazione progressiva. Quando si accorse di essere incinta, fu molto preoccupata, addirittura angosciata. Piangeva con grande afflizione. Ciò ebbe una conseguenza tale che mi segnò interiormente, tanto che nella vita non mi sentì mai amata da mia madre. Eppure lei fu sempre affettuosa con me, tanto buona con me. Mi diede sempre amore e affetto, ma io dicevo e insistevo che lei non mi amava e vissi costantemente con questo complesso. Se solo avessi perseverato ad accostarmi ai sacramenti con umiltà, fede e amore, la grazia di Dio avrebbe sanato questa ferita. Quando mi battezzarono aveste dovuto vedere la festa che ci fu in cielo. È una creaturina che riceve sulla fronte un sigillo, il sigillo dei figli di Dio. È un fuoco, il fuoco d'appartenenza a Gesù Cristo. Ma vedi nel libro della vita, come già da piccolina cominciai a riempirmi delle conseguenze del peccato di mio padre. Iniziai a conoscere, per esempio, le sue bugie, il vizio del bere, l'infedeltà e la sofferenza di mia madre. Tutto questo mi segnò e generò in me sentimenti, emozioni e comportamenti negativi che si protrassero per tutta la vita. Nel libro della vita mi si presentò una delle esperienze peggiori subite quando non avevo ancora compiuto tre anni e che non riuscirò mai a dimenticare. Stavo dormendo pacificamente quando veni svegliata improvvisamente da un frastuono. Spaventata, apri gli occhi e vidi i miei fratelli maggiori, correre a nascondersi. Uno di loro si nascose dentro il forno e quello prima di me, per età, si mise dietro una porta. La mia mamma, che era incinta, pensò prima a me, nascondendomi sotto una mensa, coperta da un mantello, cercando di assicurarsi la mia incolumità, dicendomi. Amore mio, non uscire, non uscire. E solo dopo, pensò a se stessa, nascondendosi dentro un grande armario a muro. Sapete da quale pericolo ci stavamo nascondendo? Da mio padre, che stava rincasando ubriaco dopo tre giorni di bagordi. Mai si cancellerà dalla mia memoria la scena in cui mio padre, aprendo violentemente la porta dietro la quale si era nascosto il mio fratellino, lo schiacciò contro la parete. In preda alla paura uscì correndo, ma mio papà lo prese e lo colpì. Mia madre allora corse a proteggere il mio fratellino e mio padre li picchiò entrambi. Io vedi tutto da sotto la mensa con i miei occhi di bimba. Questo è imprimere negativamente. A un bambino mai si cancellerà il ricordo di tali esperienze che il più delle volte vengono ripetute da chi le subisce trasformando la vittima in carnefice. Dio, per sua grazia, mi fece vedere anche ciò che i miei occhietti carnali non poterono vedere. Vedi la parte spirituale della mia esperienza. Mio padre era internamente posseduto dal demonio gigante, intrufolatosi in lui approfittando del suo stato di semi-incoscienza dovuto ai fumi dell'alcol. Questo demonio era orribile e spaventoso, colpiva e ribaltava tutto. Non era mio padre, era la bestia che agiva in lui. Vedi anche la lotta spirituale tra il demonio impossessatosi di mio padre e l'angelo custode della mia mamma, il quale vinse facendo allontanare la bestia.